Per mandare fuori di testa un uomo è super semplice, fai questo. Utilizza il principio dell'iperrazionalità, questa tecnica funziona ancora per me, la uso sempre anche in diversi contesti che non sono solo quelli sentimentali. Quando una donna mi sta facendo star male e io voglio vendicarmi, così mi prendo la vendetta a livello relazionale e sentimentale, incomincio a chiedermi che cosa farebbe Federico dieci volte più straw in questa situazione. Ora, una domanda di questo tipo mi dà e mi fornisce una risposta iperrazionale e entro 5 secondi so esattamente qual è la risposta migliore. La risposta iperrazionale è la risposta più seducente, ok? Ora, lo so che questo può sembrare manipolatorio o qualche tecnica oscura, ma si tratta soltanto di astrarre dallo Sturmundrang sentimentale che proviamo e iniziare a vedere le cose per quello che sono. Se una persona ti manca di rispetto, non ti vuole, beh allora devi risponderti nel modo giusto. Seguimi qui e studi altri social se non vuoi finire scalibrata.